L'ematologia è un lavoro di squadra. Radiologo, chirurgo, biologo molecolare e medici specialisti dei diversi ambiti devono collaborare insieme con l'obiettivo di garantire la miglior cura ai pazienti affetti da patologie ematologiche. E' stato questo il tema al centro del congresso promosso il 12 e il 13 ottobre presso il polo universitario dell'ospedale Monsignor Di Miccoli di Barletta. L'ematologia è un lavoro di squadra proprio perché oggi le necessità per arrivare ad una diagnosi ematologica che sia la più completa e articolata possibile non è da intendersi soltanto come un fatto accademico ma ha delle dirette conseguenze sulla terapia e quindi i vari riflessi possibili della diagnosi ematologica portano a farmaci diversi. Tutto questo richiede il concorso di diverse specialità dal radiologo al chirurgo al biologo molecolare al citogenetista quindi l'ematologo non è solo ma è il driver di un team che alla fine porta questo risultato nell'esclusivo interesse della miglior cura dei pazienti. Il convegno medico è un confronto fra i vari specialisti del settore pensato proprio con l'obiettivo di promuovere un approccio multidisciplinare finalizzato esclusivamente al benessere dell'ammalato ematologico. Noi crediamo nella medicina che sia caratterizzata da questi quattro elementi ma la medicina preventiva, medicina partecipata, medicina personalizzata e medicina di precisione. Tutte queste caratteristiche per essere attuate necessitano della collaborazione di tutti gli specialisti che noi abbiamo coinvolto in questo convegno e che hanno un ruolo significativo per arrivare alla diagnosi e quindi al trattamento corretto del paziente.